Maddalena, una battuta sui nomadi. Ma i nomadi sono degli ever young, perché hanno il cuore giovane, ringiovaniscono noi, ci riportano indietro la nostra gioventù. Noi siamo cresciuti con le loro canzoni, con le loro poesie, li portiamo nel cuore e loro hanno un cuore così giovane, così dinamico e così eterno, che sono indimenticabili, grandi, nomadi forever.